Ciao, il mio nome è Pat Bianchi, sono un organista di New York e sono qui oggi per parlarvi di alcuni dei prodotti più nuovi offerti da Vscout. Innanzitutto cominciamo con il Legend, poi parlerò anche del Legend Live. Comincerò parlando un po' del mobile e delle sue principali caratteristiche progettuali. Il Legend pesa 21 kg ed è fornito di un mobile con fianchi in legno di ontano e scocca in lamiera. Il Legend Live pesa 18 kg ed ha un suo specifico stand opzionale. Ora mi accingo a parlarvi del pannello di controllo del Legend e del Legend Live. La disposizione è quasi identica al classico organo con ruote foniche. All'estrema sinistra abbiamo gli interruttori per il volume, soft e normal, e vibrato per manuale superiore e inferiore, selettore del vibrato chorus, poi abbiamo due sette di draw bars per il manuale superiore, due draw bars per la pedaliera e due sette di draw bars per il manuale inferiore, seguiti dai quattro interruttori delle percussioni. Adesso vi parlerò delle varie caratteristiche del Legend e del Legend Live. Prima di tutto vorrei parlarvi del riverbero. Nell'organo ci sono due tipi di riverbero selezionabili. Il primo è un riverbero di tipo hall. E il secondo è uno spring reverb. Una caratteristica speciale inclusa nell'organo consiste nel poter selezionare dove allocare il riverbero lungo la catena del suono, pre o post Leslie. È possibile inserirlo dopo o prima la simulazione di Rotary Speaker. Entrambi i modelli Legend e Legend Live dispongono di due innovativi modelli di effetto overdrive. Desidero mostrarvi prima l'overdrive classico. Anche il secondo effetto di overdrive è una replica del classico suono degli amplificatori da chitarra, valvole tipico del rock. Viscount ha investito moltissimo tempo lavorando accuratamente per modellare l'effetto key-click che su questo organo è regolabile. Nell'ambito dei controlli di percussione che si trovano all'estrema destra dell'organo, ci sono anche quelli che permettono di controllare sia il decay che il volume. Il Legend e il Legend Live dispongono entrambi di tre cloni di organo selezionabili, da quello degli anni 30 al 50 fino al 70, sono tutti selezionabili in tempo reale. A proposito, tutte le caratteristiche del Legend e del Legend Live sono regolabili in tempo reale. Usando tutti i cloni di organo, suonerò quello degli anni 30 seguito dal 50 per finire con quello degli anni 70. Ogni clone ha una caratteristica unica. Partiamo con il clone 30. Prima di tutto il Cross Talk, che è regolabile. E anche il Bass Fallback è molto simile. Adesso sto passando al clone dell'organo degli anni 50 e si può percepire un suono leggermente più scuro. Ha anche un proprio particolare Cross Talk. Adesso passerò al clone degli anni 70. Questo clone ha molto più mid-range, una riminiscenza dei condensatori al Mylar impiegati nei tradizionali organi a ruote foniche. C'è anche un suono unico a Cross Talk. Quando si trasporta questo organo, non ci si deve mai preoccupare di rompere il selettore di controllo del Rotary Speaker perché si può rimuovere per il trasporto. Il Legend e il Legend Live offrono due nuovi emulatori di Rotary Speaker. Il primo è un suono classico che sembra veramente avvolgerti nel tuo ambiente di ascolto. Il secondo è un suono più rock che emula più da vicino quello tipico del Rotary Speaker. C'è anche un equalizzatore differente. Come un organo a ruote foniche originale, il Legend ha dei tasti a colori invertiti denominati preset e anche il Legend Live ha due preset per ogni manuale. Il Legend e il Legend Live hanno entrambi un controllo di sustain per la pedaliera. Il suono della pedaliera può anche essere assegnato al manuale inferiore. Il Legend e il Legend Live hanno entrambi una caratteristica unica denominata Pedal Direct che permette di assegnare ad un'uscita jack dedicata il suono della pedaliera. Nei connettori posteriori è disponibile un'uscita separata clean, ovvero depurata sia dall'effetto chorus vibrato sia dall'emulazione del Rotary Speaker. Sia il Viscount Legend che il Legend Live offrono un insieme di uscite molto flessibili per audio e MIDI. Da sinistra a destra c'è un connettore a 11 pin standard seguito da un jack per le cuffie. Le cuffie possono essere anche connessi ad un ingresso jack anteriore. Poi le uscite Output Stereo, l'uscita Bass Pedal, quelle della mandata e ritorno effetti, ingresso analogico per utilizzare l'effetto Rotary Speaker su uno strumento esterno, il guadagno di ingresso. Seguite dai controlli dei pedali, Expression, Rotary Speed e Hold. Poi ci sono i connettori MIDI per ingresso MIDI standard per la pedaliera seguiti da Through e due uscite separate. C'è una porta USB to Host per il software update e infine una caratteristica unica, una porta USB Charge che permette di collegare il tuo tablet se stai leggendo uno spartito oppure se desideri una luce, un ventilatore o qualsiasi cosa possa essere caricata con una porta USB. Infine, un ingresso per l'alimentazione che può essere sia a 120 che a 220 volts. Una caratteristica speciale inclusa negli organi Legend è chiamata Pedal Hold che permette di aggiungere un effetto di hold alle note nel manuale superiore. Grazie a tutti per l'alimentazione Grazie a tutti per la città www. WellsHDL и Grazie a tutti per l'alimentazione Grazie a tutti per letter There are Grazie a tutti per aver03 Io ti no parla